Signore e signori, cari amici, buonasera a tutti e bentornati alla 45esima edizione del quadro dei castelli della città di Castiglione. Sta per fare il suo ingresso qui nel biale del castello di Monteruzzo, il corteo storico, con tutti i figuranti, il capitano del palio, i magistrati, le dame e i cavalieri. Ed eccolo che lo vediamo, il corteo storico, come di cosmetto, aperto dal vestillo della prova di Castiglione, con il nostro presidente in testa, che è per sempre il corteo, seguito dai musici di palazzo. Castiglione Ed ecco che vediamo sfilare, anche qui davanti al parchetto d'onore, il vestillo della prologo di Castiglione-Lona, con il suo presidente Roberto Cristoforetti, che salutiamo. E a tutta la prologo, che quest'anno festeggia un traguardo importante, 50 anni, adesso a votazione i migliori auguri. Un saluto anche a tutto il gruppo dei musici di palazzo, che animano questa manifestazione al suono dei tamboni e gli squibili delle trombe. E a digresso nel nostro piano e anche il potere civico, con il capitano del palio, e qui un po' da Alessandra e dall'autorità. Salutiamo anche il capitano del palio dei Castelli 2022, Emanuele Poletti. E un saluto a tutti i magistrati e all'autorità qui presenti. E dopo ora, il suono di salutarla, andiamo a sfilare il palio premio, che verrà consegnato questa sera al trione, che incerà la corsa delle bosse. Scalpa, gli attori uomini, si dichiarà l'avuto premio. Anche quest'anno il palio è stato appositamente dipinto per questa edizione della manifestazione, dal maestro Milo Lombardo. E ora vedremo sfidare uno ad uno i capitani degli otto rioni della nostra città. Ad aprire il cordeo è il capitano del rione Careno. Sì, il rione che ricordiamo è stato vincitore l'anno scorso del nostro palio, cioè dell'anno scorso, no, del 2019. Della ultima edizione di Scutana, certamente. E infatti il capitano del rione ha sul proprio montello la foggarda, che viene data proprio al capitano del rione di Scutana. Segue, con il suo leone raffante, il rione centro storico. Ed eccoli i nobili, nella famiglia d'Alda, nel rione centro storico. La famiglia d'Alda, nella famiglia d'Alda, nel rione centro storico. E' la volta del rione Ciapa. Ed ecco da sventolare la bandiera del rione Ciapa. Dai colori rossi, bianco e blu. Al suo seguito, la nobilissima famiglia Busterla. Ochra a Sventola